La prossima settimana Dario Scalella è atteso in Irpinia per fare la conoscenza dei componenti dei dipendenti Citigas presenti ad Avellino, tra questi ci sarebbero anche i ragazzi sotto contratto con la Scandone Avellino. Aspetta proprio al nuovo manager decidere come comportarsi con il team di basket bianco-verde e cosa farne dell'asset sportivo che, a differenza del calcio, non ha alcun valore ed è pieno di debiti. Nicola Alberani intanto sta tentando di mettersi in contatto proprio con l'attuale amministratore delegato del gruppo per metterlo al corrente della situazione economico-finanziaria del club e decidere quali saranno i passi da fare. Nel frattempo coach De Gennaro attende di conoscere il budget della squadra per iniziare a costruire il roster che dovrà, eventualmente, scendere in campo a partire dal 29 settembre. Resta l'idea di prendere i ragazzi del posto per contenere i costi. Intanto l'iscrizione alla campionata di Serie B ha risvegliato i creditori che ora hanno la scusa per aggredire la Scandone. I più zelanti da questo punto di vista sono i rappresentanti dell'agenzia Inter Performances che curano gli interessi propri e quelli di Ariel Figlioi. Attivissimi anche gli ex tecnici Massimo Maffezoli e coach Francesco Cavaliere che si sono affidati all'avvocato salernitano Giovanni Allegro.